Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento, forse fra tutti quelli che ho trattato finora, veramente il gioco più tascabile sulla faccia della terra, vista anche le dimensioni, vi presento Soldati, gioco a cura di Asmo d'Italia, edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Si parla di un gioco velocissimo, infatti le partite richiedono 30 minuti esagerando, dai 14 anni in su, perché comunque si va a toccare un tema abbastanza sensibile, per quanto qui è riprodotto molto semplicemente, però della prima guerra mondiale, della grande guerra, tra l'altro uno dei periodi bellici, i miei preferiti, mi è sempre garbata anche a livello di film, romanzi, videogiochi e quant'altro, e un titolo cooperativo, solo cooperativo, da 2 a 5 giocatori, dove dentro il manuale danno delle regole particolari per giocarlo in 2, però questo è un gioco da giocare in una vera e propria squadra, perché è molto bellino e cooperativo, dove uno dei giocatori andrà ad interpretare il comandante del protone, e tutti gli altri saranno i soldati che dovranno fare la missione, appunto, assegnateli dal comandante, dal capitano, quindi ci sarà da fare un po' di missioni, e questo è lo scopo del gioco, sopravvivere e arrivare in fondo alla prima guerra mondiale. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Soldati, in questa edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, come detto poc'anzi, è un gioco cooperativo, quindi qui si collabora, o si vince o si perde tutti insieme. All'inizio della fase del turno ci sarà il giocatore incaricato di fare il comandante che dovrà andare a proporre e intavolare una missione, e dovrà decidere un'intensità. Un'intensità sono il numero di carte che dovranno essere pescate da ciascun giocatore, quindi potrebbe decidere un'intensità, il gioco consiglia di fare un'intensità di 3 per il primo turno di partenza, così che tutti peschino 3 carte, ma anche di meno, come anche di più. Quindi, andando a proporre l'intensità, più carte verranno pescate nella mano dei giocatori, più carte ci sarà da giocare e di cui liberarsi, più difficile ovviamente sarà la missione. Ciascun giocatore, all'inizio del proprio turno, poi andando a girare in senso orario, potrà compiere un'azione. Potrà giocare una carta dalla propria mano, quindi mettendole in campo, che potrà essere una carta minaccia o duro colpo. Nel caso fosse una carta duro colpo, se la dovrà tenere in mano fra le sue. Nel caso, invece, fosse una carta minaccia, verrà aggiunta alla terra di nessuno, che è la zona centrale dove tutti i giocatori, appunto, giocano e vanno a calare le loro carte minaccia. Carte minaccia che vanno a comporre un po' la difficoltà della missione, perché il regolo vuole che se fra tutte le carte minaccia messe sul tavolo, e ovviamente non rimosse, come lo vi vado a spiegare, ce ne sono tre uguali con lo stesso simbolo, ad esempio, tre colpi di mortaio, la missione è fallita. Se ci sono tre carte col simbolo dell'inverno, la missione è fallita, quindi non ci devono mai essere più di due carte minaccia con lo stesso simbolo nella terra di nessuno. Sarà possibile girare la propria carta e farla vedere dalla parte porta fortuna, che darà dei bonus a livello di missione, o addirittura sarà possibile o ritirarsi, non giocare più niente, ritirarsi dalla mano, però continuare a dare supporto a chi sta giocando da fuori, non direttamente, però provando a dare qualche bonus o qualcosa, o facendo un discorso. Facendo un discorso si va a identificare una minaccia, quindi si va a nominare una minaccia, e ciascun giocatore potrà togliere dalla propria mano una e una soltanto carta minaccia di quel tipo appunto che è stato deciso. Che ne so, carta minaccia, come vi ho detto prima, colpo di mortaio o con un simbolo particolare, se qualcuno ce n'ha una in mano, la può prendere e la può scartare. Come detto, la missione finisce quando o tutti si sono ritirati, o le minacce sul tavolo sono state pulite, o ci sono tre minacce uguali, e quindi la missione è fallita. oppure quando un giocatore ha troppe carte duro colpo in mano. In caso se abbiano troppe carte duro colpo in mano, ovviamente il soldato non ha resistito alle minacce della guerra, oppure è stato abbattuto sul campo di battaglia, e quindi la missione finisce. Il gioco va avanti, cioè, fallisce la missione, sia chiaro. Il gioco va avanti fino a che non si pescano tutte quante le carte, e alla fine viene l'ultima carta di pace, e quella va a sancire praticamente la fine della partita, il mazzo da cui si deve andare a pescare è praticamente vuoto, e la guerra è finita, e diciamo, le missioni sono state portate a compimento, quindi si può dire partita vinta. È un gioco cooperativo, dove almeno un giretto va fatto per capire un pochino meglio le regole, comunque è un gioco collaborativo, quindi qui o si agisce insieme o si perde tutti insieme. Non c'è modo di sabotarsi. In conclusione, questo soldati è un gioco veloce, ha componentistica all'interno, a parte qualche piccolo token, poi sono tutte quante carte, quindi non ci sono miniature o cose strane, si può giocare praticamente ovunque, si può giocare su un piccolo tavolino, si può giocare anche volendo, anche in spiaggia, quindi chiede comunque poco posto, ed è bellino perché i disegni sono fatti veramente da paura, molto evocativi, ricordano un po' quel gioco che è uscito per PC, di cui ora non mi viene il nome su Steam, ma che è veramente molto carino, di quella famiglia che si ritrova nella Primavera Mondiale, ed è un titolo veramente, veramente molto interessante, tra l'altro mi ha avuto in mente, Valiant Hearts, e se non ci avete mai giocato, andate a vedere perché è un piccolo capolavoro, quindi è un gioco veramente bellino, veramente interessante, veloce, immediato, sì, ci vuole una partitella per capire un po' tutto, però comunque, grazie a Mordred, e tra l'altro lo vedete che, è sempre più grande sto gatto, ogni video che passa, acquista massa, comunque, lo alzo perché poi non si vede, veramente molto carino, è vero? Dillo un pochino anche a te, come? Che carino! Ecco, visto? Somma, col gatto che fa casino, e con la coda di un mancun, come sempre, se lo volete ordinare, io devo tenere il microfono, insomma, me lo butta giù, primo link in descrizione, in sovimpressione, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato, se andate sul sito, lo trovate finito, o proprio non è in lista, scrivete al supporto, e fate presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, Gioco Libreria Semola, farà il possibile, per trovarvelo, al miglior prezzo sul mercato, e usate sempre il codice discount, Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, per spese superiore a 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa, ordinate in 48 ore, e arriva a casa, non demordete, se andate sul sito e non lo trovate, perché basta mandare un messaggio al supporto, grazie ad Asmod Italia, grazie un pochino meno a Mordred, che mi sta muovendo tutto, e al prossimo video. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!